Continua il sogno mondiale delle azzurre a Montpellier, l'Italia batte 2 a 0 la Cina e strappa il biglietto per i quarti di finale, eguagliando così il miglior risultato di sempre della nazionale femminile in una Coppa del Mondo. Azzurre in vantaggio al quindicesimo con Valentina Giacinti, il 2 a 0 in avvio di ripresa porta la firma di Aurora a Galli, inutile il forcing finale della Cina, la nazionale di Milena Bertolini tornerà in campo sabato a Valenciennes. Grazie a tutti.